Lazio 2, Juventus 1, attenzione, Juventus, parata di Marchetti, rete, palla che termina fuori, palla che termina fuori, una mischia clamorosa, non è entrata in porta, un errore a due metri dalla porta, una finale incredibile, prudenza di Marchetti, e poi è andato a sbagliare Marchisio, Marchisio ha messo il pallone a lato, Marchisio ha messo il pallone a lato, qualcuno segnala il fuorigioco di Marchisio, ma assolutamente non c'era il fuorigioco di Marchisio, è proprio Marchisio che ha sbagliato, non ci crede la panchina della Juventus, ancora la Lazio che aveva lasciato un'autostrada in difesa per il tiro, la palata di Marchetti, ha avuto Marchisio il pallone del gol che significava finale, qualificazione e che avrebbe assolutamente affossato la Lazio sotto tutti i punti di vista, Storari va in area di rigore, è l'ultima occasione, Lazio 2, Juventus 1, Marchisio ci ha fatto strutturare, passare in gola è l'urlo del gol perché da lì nessuno può sbagliare, tanto più un giocatore della nazionale, ha fatto un errore che probabilmente sognerà per diversi anni Marchisio.